Nel nostro territorio comunale abbiamo due pozzi che erano stati, non so, ma risalgono a 40 anni fa. Non capisco la motivazione che erano state queste due perforazioni, chiuse e sigillate. Io ho partecipato prima con la Federico II, poi con la Regione Campania, ARPAC, per monitorare il flusso di questa falda importantissima. Abbiamo messo delle sonde multiparametriche per monitorarne sia la qualità, sia il flusso, è la tenuta di questa falda per poi sfruttarla sia in irrigazione che sia per uso domestico. Un importante risultato, io ringrazio la Regione Campania, ARPAC, la Federico II, tutti quanti coloro che hanno insieme al Comune di Giungana sottoscritto questa convenzione per valutare questa falda perché l'acqua è una ricchezza per questi territori. È importantissima queste due falde che possono alimentare, perché qui ormai lo sviluppo rurale, il zootecnico piglia sempre maggiori piedi, tante le aziende zootecniche si insediano, quindi quest'acqua potrà essere utilizzata sia per l'uso domestico che per l'uso zootecnico, qualora la qualità dell'acqua, ma non ho dubbi perché la qualità è eccezionale, perché viene dal Monte Sottane, viene dai monti a Monte, quindi sicuramente ci sarà un risvolto economico importante.